faremo vedere adesso una terapia fatta con pronexibus plus la facciamo a un calciatore che ha un risentimento all'adduttore della gamba destra la macchina la settiamo a 8 megahertz e la potenza da 50 ci spostiamo verso il 70 75 per cento iniziamo la terapia senza utilizzare nessunissimo gel conduttore o null'altro ci regoliamo sulla sensazione proprio al tatto all'appoggio della testina di come risponde il tessuto e dal dalla sostenibilità del calore da parte del paziente quando brucia troppo logicamente dobbiamo abbiamo due modalità operative o iniziamo andare molto più veloci con la testina o abbassiamo la potenza fino a quando il paziente non avverte più un caldo fastidioso andiamo a lavorare su tutto l'ambito muscolare possiamo dirigerci anche sulle fibre degli altri adduttori possiamo andare anche a lavorare sull'inserzione del bicipite femorale il vantaggio della macchina è proprio quello di poter lavorare più gruppi muscolari in un'unica seduta